bene buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati da pietro pacello in particolare da tier one fx che ospita queste mie elucubrazioni sui mercati tutto pieno anche oggi tantissime iscrizioni devo cercare di risolvere questo problema anche se come sapete dal 15 di ottobre il webinar sarà free solo il lunedì e negli altri giorni sarà riservato ai clienti real di tier one fx e credo che il cut off dei 100 partecipanti sarà sufficiente almeno per il primo periodo spero che poi si sia costretti a provvedere diversamente anche in questo senso nel frattempo vi do mi faccio i miei più sinceri complimenti per essere sempre così presenti riconosco tanti di voi che mi seguono oramai quotidianamente approfitto per ricordarvi di leggere con attenzione il nostro disclaimer e per anticiparvi un evento speciale di domani sapete che mi sono inventato questa cosa della guest star dell'ospite speciale che ci parla della sua tecnica del suo approccio a mercato dopo la settimana passata in cui è stato il turno del grande viaggio milano questa settimana abbiamo antonio carnevale ci parlerà della sua anti martingala sul dax su euro dollaro una tecnica davvero molto aggressiva e molto interessante allo stesso tempo preferisco che ve ne parli lui in maniera dettagliata e particolare perché davvero ne ha una conoscenza ovviamente più approfondita del sottoscritto vi consiglio di rimanere collegati domani perché noterete apprezzerete la davvero la particolarità di questo approfondimento e dal punto di vista pratico spero che sia un contenuto che possiate e sappiate assolutamente apprezzare visto che antonio carnevale ci dedicherà davvero del tempo prezioso e soprattutto ci divulgherà senza segreti quella che la sua strategia che gli permette di performare oramai da tanti anni sui mercati detto questo e ringraziando fabrizio che mi ha definito il fiorello del trading lo prendo come un complimento ovviamente ritorniamo un po indietro nel tempo vi ricordo che la nostra proposta commerciale oggi non sono a malta ci sarò domani quindi ve ne parlo io al posto di pedro è stata chiaramente allineata alla valuta euro sempre 5 euro per lotto round turn come si suol dire quindi due e mezzo all'andata e due e mezzo al ritorno quindi un costo complessivo di 5 euro più spread interbancario per quanto attiene la domanda di angelo per chi vuole aprire il conto e non riesce entro il 15 ottobre che deve fare purtroppo non può fare nulla angelo perché la scadenza è tassativa come sapete il 15 di ottobre partiamo con l'academy per quella data come sapete c'è un filtro alle presenze alla partecipazione bisognerà già avere un conto autorizzato e con un deposito già avvenuto di almeno 1000 euro per partire con la parte basic si potrà in una fase successiva aderire ai moduli che andranno a seguire quello intermedio e quello avanzato andando eventualmente se si ha piacere di seguire l'intero percorso ad aumentare la disponibilità sul conto molti chiedono pietro ma versare sul conto vuol dire per forza dover operare assolutamente no nessuno vi può costringere a fare qualcosa che non crediate o non vogliate assolutamente fare siamo però come dire moderatamente convinti che apprezzerete gli spread particolarmente aggressivi e interessanti dei conti stessi e se siete degli operatori che già lavorano con altri trader onestamente non vedo il motivo per cui non possiate o non vogliate o non dobbiate prendere in considerazione l'offerta di tier 1 fx quindi dal punto di vista particolare con nessun obbligo l'academy non ha nessun costo assolutamente ricordatevelo non vi viene come dire trattenuto nulla sul conto semplicemente la riserviamo a clienti real che poi questi clienti real lo tradino o meno non dipende da noi è una decisione assolutamente che vi chiede nelle vostre facoltà di tradare o meno e quindi operativamente parlando poi spetta a voi è evidente che tier 1 fx oltre aver fatto un'offerta molto aggressiva è sicura del suo è sicuro del fra virgolette della qualità del 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 book che vi proporrà soprattutto sul forex oltre che su indice in commodities ma aspetterà come sempre a voi la decisione unica e finale per valutare l'eventuale operatività con questo broker angelo risponderò alle tue mail dopo girolamo mi dice 3000 euro non sono pochi per operare secondo te tenete presente che non c'è ognuno di noi ha un capitale tra virgolette fisiologicamente associabile al profilo personale in termini di rischio in termini di propensione al rischio di dismanagement familiare e quant'altro di money management scusatemi familiare e quant'altro io non posso dire qual è la somma corretta vi ricordo solo magari non l'ho specificato più volte che per quanto riguarda l'operatività su appunto sui cosiddetti cfd se non sulle valute sulle valute i micro lotti sono assolutamente tradabili per quanto riguarda indici gli indici il meccanismo prezzi di tier 1 fx è abbastanza favorevole anche a conti molto piccoli perché ad ogni basis point di un indice ad esempio guardiamo il dax è associato il tick value 1 il che vuol dire che se comprate un lotto state comprando ai prezzi attuali solo circa 10.000 euro di controvalore il che permette fra virgolette anche di avere una come dire una calibrabilità della leva finanziaria del rischio e perché no anche partire con un approccio un po più soft nel trading per poi verificare se anche grazie spero all'accademia riusciate a diventare operatori un po più performanti più stabili come per capacità di produrre performance per quanto riguarda gli storici antonio stiamo lavorando anche sull'aggiornamento degli stessi a breve avrete grandi novità per quanto riguarda gli storici dei simboli sono santi sì probabilmente faremo dei webinar molto operativi la mattina nel senso il disclaimer lo avete letto io non posso fare fra virgolette una consulenza e dirvi dove comprare e vendere però nulla mi impedisce di evidenziarvi delle situazioni tecnicamente interessanti su cui poi io vado in demo a fare l'operazione sarà poi a voi a valutare se è un'operazione replicabile o meno vediamo un po di domande poi iniziamo antonio vincenzo antonio è molto bravo ma preferisco che si presenti da solo ma è un operatore molto particolare quindi se avete sentito e avete visto già come dire molte tecniche di trading questa in assoluto è abbastanza innovativa e particolare ed è tanto particolare per cui ritengo sia opportuno che bene parli lui in maniera diretta perché io l'ho visto all'opera più volte ho fatto con lui un tour lo scorso anno per active trades con cui ho lavorato fino a pochi mesi fa e devo dire che è una tecnica davvero innovativa ripeto molto aggressiva ma che solo lui vi può esprimere nella sua nella sua completezza non ne avrei assolutamente la competenza per avere l'operatività raimondo bastano normalmente il compliance perché per quanto si possa pensare malta è sotto leggi da della comunità europea e comunità europea quindi processo di assunzione dei clienti è lo stesso ed identico a quello degli altri broker che magari già conoscete operativi in italia quindi il compliance ci mette se i documenti sono a posto più o meno 24 ore a dare l'ok e a poi mandarvi le mail per poter procedere con il versamento vediamo ancora girolamo risposto lo stesso fatto per antonio vediamo qui sì santi confermo la mia idea è la mattina di tenere una piatta live e di fare del trading veramente di breve quindi non un impegno nel dialogare tantissime ore con voi perché non reggerei dal punto di vista squisitamente fisico rimane il trading time alle 16 e 30 ma non escludo dei come dire delle rapide puntate sui mercati quando vedo qualcosa di interessante e l'idea che mi sta affascinando è quella di condividere con voi anche la piattaforma con cui appunto faccio il webinar e con cui ovviamente faccio anche il trading che vedrete anche oggi il margine di 0.5 viaggio confermo su ogni simbolo quindi più o meno allo stato attuale 80 euro sullo stocks margini molto molto limitati giovanni dice se si depositano 1000 euro e fortunatamente dopo 30 giorni sono 2000 c'è bisogno di implementare assolutamente no noi andiamo semplicemente a verificare il saldo del conto cliente per dargli l'accesso o meno in quel momento all'accademia il sito italiano è oramai completo forse già da lunedì o martedì sarà online innocenzo conferma che antonio è molto bravo bene long darks girolamo sono d'accordo con te riccardo ti ho risposto qui per i webinar giornalieri trading time il free il lunedì è free negli altri giorni bisogna avere un conto aperto con tier one non c'è il limite alla size del conto però chiaramente ragazzi miei qui parliamoci chiaramente come sempre siete abituati a fare con il sottoscritto non apriamo il conto tanto per usufruire dei servizi la nostra speranza che considerate davvero l'opportunità di operare altrimenti io faccio una figura di niente detto ciò per quanto riguarda la vps giovanni non so se hai notato ma ne parla sempre meno gente perché mt4 la meta trader proprio la casa madre delle nostre piattaforme ha strutturato una vps interna a costi ridicoli e stabilissimi quindi ti consiglio piuttosto che avere mps vps del broker in questo lo sapete sono sempre sincero prenderti direttamente quella della meta quote che è molto più stabile in cui nessuno poi può ficcarci il naso non fa parte comunque della nostra offerta commerciale detto ciò andiamo in webinar e andiamo a vedere subito qual è la situazione dei principali mercati vi anticipo che ho fatto da poco da poche ore no pochi minuti un'intervista con davide pantalero di trend online sul quadro intermarket quindi magari alcuni degli spunti di cui parliamo adesso li ritroverete nell'intervista stessa vado subito sul simbolo su cui voglio porre la vostra attenzione come notate in questo momento in piattaforma ho solo due operazioni aperte sono buy di dollaro cad e sono buy di petrolio ricordate ne abbiamo parlato anche con l'ottimo viaggio quando è stato l'ospite speciale la passata settimana stiamo aspettando da tempo il breakout del petrolio andiamolo a trovare se in mezzo a tutti questi grafici lo trovo facilmente eccolo qui beh abbiamo breakout nel senso che abbiamo aspettato questa operazione lungamente a quanto pare questo wedge di congestione è stato breccato a rialzo sapete da quanto tempo stiamo marcando questa posizione non siamo gli unici a vederla abbiamo una come dire una proiezione molto interessante perché normalmente le figure triangolari si evolvono per l'altezza del triangolo stesso dal lato del breakout quindi addirittura una proiezione in area 53 come vedete io ho comprato sono long da qualche minuto non tanto e vediamo da che ora ho comprato su questa piatta il petrolio alle 16 e 52 13 e 15 e 52 perché noi usiamo chiaramente l'orario gmt con un'ora un'ora in più rispetto a quella che visualizziamo in italia dal punto di vista pratico sono long l'idea è che il petrolio vada a confermare questa figura e possa spingere verso area 53 da qui c'è stato il breakout da qui andiamo long ne abbiamo parlato a lungo ho messo lo stop per il momento per il momento uno stop abbastanza pesante sotto l'ultima candela quindi sotto l'ultimo minimo in area 45.80 spero ovviamente che non mi prenda però dal punto di vista pratico ragazzi miei questa è un'operazione abbastanza interessante abbastanza consistente d'altra parte se guardiamo il petrolio su dinamica h4 nel medio lungo termine noterete che non è null'altro che è una classica figura di continuazione perché dopo l'avvenuto famoso breakout al rialzo di questa impressionante serie di massimi decrescenti caratteristica di un trend discendente c'è stato il breakout rialzista del petrolio il primo in area 39.40 accelerazione di quasi 9 dollari al barile dopodiché normalmente fisiologicamente si entra in trading range si assestano le posizioni ragazzi questa è una figura di continuazione quindi a questo punto il petrolio dovrebbe continuare ad andare ci permette questo tipo di situazione anche di tracciare quello che sarà il supporto importantissimo nei prossimi giorni questo nuovo supporto che ho appena disegnato quindi fino a quanto il petrolio si mantiene sopra l'area 45 è un long tutta la vita sotto 45 diventa una tragedia roberto mi dice che non mi sente sì purtroppo confermo come dice anche fabrizio connessione tipicamente italiana quando sono a malta è perfetta ragazzi non posso fare nulla di meglio purtroppo non posso migliorare la qualità della connessione italiana non ho questo potere un po di pazienza non dipende chiaramente da me io più che pagare la dsl il massimo possibile non posso fare quindi la situazione numero uno su cui volevo portare la vostra attenzione appunto questo breakout del petrolio adesso facciamo la nostra sequenza tradizionale ricordandovi che per il momento sono long petrolio e long usd cad sul petrolio vi ho già detto perché per come per quanto sullo usd cad ci arriveremo fra un po girolami mi dice che è long da 72 sulla carne di maiale guarderemo anche quella senza problemi si è diventati ieri ieri parlavamo se non ricordo male della del succo d'arancia adesso la carne di maiale certo che vuoi di andare su mercati un po più scambiati e quindi con grafici più puliti proprio fate una grande fatica allora detto questo detto questo giuro dollaro riccardo mi dice sono short ci arriviamo riccardo partiamo subito con dollaro yen grafico bianco perché ho cambiato piattaforma sono passato dalla mia piattaforma real a questa demo quindi ho il puntino che deve eccolo qua situazione dollaro yen molto molto pulita molto chiara pullback perfetto sulla resistenza dinamica che osservavamo ieri vi ricordo che la configurazione è sempre la stessa grande resistenza a 121 al di sopra della quale brindiamo al ritorno del risco pieno quindi alla alle piazze finanziarie azionari che volano viceversa supporto statico altrettanto importante in zona 118 80 per il momento ovviamente propendo per un test abbastanza imminente di area 121 e lo ribadisco stante questa prolungata fase di congestione se il dollaro yen sfonda rialzo quindi lo yen svaluta ancora e il viene comprato voliamo anche sul mercato del rischio in generale mi sembra quindi che sia la situazione tecnica probabilmente più importante determinante da valutare nelle prossime ore occhio quindi al dollaro yen al dollaro sicuramente in generale al dollaro yen in particolare sopra 121 si vola altrimenti rimaniamo in trading range anche sull'azionario per quanto positivo detto del dollaro yen velocemente sull'euro dollaro su cui ho già una domanda tempo di trovarlo dove sei euro usd scusatemi ma purtroppo questa piatta demo che al punto eccolo qui situazione short se non sbaglio michele si sul petrolio in questo caso essendo un breakout potenzialmente di lungo scusami non ti ho risposto prima puoi tranquillamente tradare anche con un etf ci mancherebbe non è una non è una posizione da da un giorno è un'evoluzione che speriamo si concretizzi che dovrebbe portarlo nel giro di un tempo x a raggiungere questa famosa area 52 50 53 che per me rappresenta il target obiettivo di questa particolare figura tecnica né più né meno non è che lì ci siano resistenze semplicemente e voglio essere chiaro la logica evoluzione di quel tipo di configurazione tecnica triangolare nulla di più e nulla di meno parleremo dopo quando andiamo sul petrolio invece dei target dei target grafici dei target tecnici allora riccardo mi dice sono short euro dollaro da 1 11 e 40 allora riccardo lo short euro dollaro mi sembra assolutamente corretto come idea di fondo tardivo sicuramente perché lo short doveva scattare qui ne abbiamo parlato spesso primo punto di impatto secondo per proiezione abbiamo ottenuto il terzo con buon anticipo lo sapevamo che in area 1 13 e 20 poteva esserci una grande resistenza e il punto migliore per shortare non per fare il professorino era sicuramente questa resistenza tecnica tu sei short praticamente sui valori attuali ecco la dinamica attuale tanto c'è qualcosa che sta volando nel portafoglio e la la il petrolio manco l'ho detto sarete contenti scusate un attimo scusa e la la vai vai bello 48 il petrolio quindi questo breakout che cosa vuol dire che io sono bravo no vuol dire che siamo tutti ve lo ripeto spesso su supporti e resistenze la capacità che gli stessi possano provocare movimenti molto direzionali è legata al fatto che tutti osserviamo la stessa situazione né più e nemmeno se tutti vediamo lo stesso breakout e tutti compriamo se tutti vediamo la stessa resistenza tutti vendiamo e questo chierea chiaramente uno sbilanciamento della legge domanda offerta denaro lettera acquisti vendite come volete dirla ditela che va a favore chiaramente se si è individuato il lato giusto del trend dominante ritornando all'euro mi sembra tardivo come posizionamento short anche perché ho la sensazione che pur rimanendo il mercato inserito in un contesto rialzista molto lungo e molto forte secondo me ci può essere qualche presa di beneficio se c'è qualche presa di beneficio il tuo euro dollaro rimbalza perché vuol dire che si smette di comprare dollari e si vendono gli stessi e si vanno a comprare euro quindi dal punto di vista pratico il mio timore sinceramente in questo momento è che il tuo posizionamento sia un po tardivo anche se io ritengo sempre che il vero target di euro sia abbondantemente in area 1.10 non prima quindi sono d'accordo sull'idea short in quanto tale però non vorrei che in questo momento l'euro ti rifiatasse un po verso area 1.12.50 ad esempio quindi andasse a testare nuovamente la resistenza dinamica per poi scendere tutto qua non so qual è il tuo target ribasso non so qual è il tuo stop dal punto di vista squisitamente pratico diciamo da trader il target 1.10 sono d'accordo con te qualcosa in più oramai 1.10 un po troppo in basso quindi o vai verso 1.9.20 che è questa resistenza qui oppure il primo target è un po prima direi in area 1.10.60 1.10.50 il problema è che se tieni la posizione il che è compatibile in uno scenario di lungo sappi che può arrivarti a 1.12.60 1.12.70 ancora non puoi stoppare perché non è successo nulla di particolare tutto qua il mio grafico in questo momento ti sembra fermo vediamo se è vero no no 1.12.47 1.12.48 mi sembra che si stia assolutamente aggiornando eccolo qua e quindi come vedi sta accelerando verso la resistenza dinamica di cui stavamo parlando quindi attenzione perché in questo momento sembra che si sia innescato un meccanismo di rimbalzo che rischia di metterti un po sotto sotto pressione detto questo quindi tutto coerente direi il dollaro yen si affievolisce un po lo si vede meglio in h1 vedete disegna candela rossa probabilmente va a fare l'ennesimo pullback su questa resistenza di breve che ora fa da supporto quindi potremmo rivederci dollaro yen nei prossimi minuti in area 120 e se ciò succede si dovrebbe riverberare in un euro dollaro che accelera verso area 1.12.70 1.12.75 qui dovrebbe di nuovo perdere forza e venire a favore nuovamente della tua posizione non mi ricordo il tuo nome riccardo detto ciò abbiamo visto anche l'euro dollaro diamo un'occhiata a questo punto velocemente anche al cable la sterlina attenzione breakout rialzista vi ricordo che questa è una situazione tecnica che seguiamo da diverse ore già ieri vi ricordate che avevamo un po la voglia di comprare ieri l'unico dubbio che ci portavamo dietro era l'idea che la sterlina essendo avendo il dollaro al denominatore potesse un po soffrire quel rimbalzo dell'azionario che ieri ci sembrava abbastanza scontato continuasse nella sessione odierna in effetti rimbalzo c'è stato ma a quanto pare la configurazione tecnica cable è una configurazione tecnica molto interessante va al di là del ragionamento dollaro centrismo o meno la divergenza c'è tutta è bella grossa consistente adesso c'è il breakout di questa resistenza per me è un buy long abbastanza scontato è evidente che un buy long di lungo quindi nel momento in cui come faccio adesso io vado a comprare mi compro un lotto lo devo fare con l'assoluta consapevolezza che il mio stop non posso metterlo se non al di sotto di questo minimo quindi area 151 30 il che vuol dire che come target devo puntare a questa resistenza quindi andando a passare un ordine sulla sulla sterlina se adesso lo facessi metterei 151 30 come stop quindi sotto quel minimo relativo questo e viceversa piazzerei un target area 154 50 155 mettiamo 154 50 e vado buy long al mercato come vedete operazione fatta il rapporto rischio rendimento e di quelli che tradizionalmente vi riferisco almeno due o tre volte il rischio corso cosa voglio fare voglio vedere se la sterlina continua nel suo movimento di apprezzamento davvero molto tecnico e va ad impattarmi la resistenza dinamica di lungo visibilissima anche in questo caso come vedete prevale la logica per me qui tanti sanno che la sterlina ha solo questa resistenza perché qui in mezzo ci sono solo dei riferimenti statici si interessanti ma non come dire fondamentali ci sarà un primo target in area 153 80 su questo statico testato qui 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 è oggetto del breakout qui quindi uno statico sicuramente interessante c'è poi questa zona che corrisponde neanche a farlo apposta col mio 154 50 tutto qua ok questa è la situazione di sterlina dollaro diamo un'occhiata anche ad euro gbp accontentiamo subito max un euro gbp che deve ancora portarsi verso la resistenza dinamica daily che stiamo marcando anche in questo caso a uomo da diversi giorni ecco il grafico relativo abbiamo un area target in zona 75 50 però c'è da dire che in questo momento la forza della sterlina mi sembra abbastanza consistente ok quindi abbiamo visto il cable sia quindi è evidente che cosa intendo dire con questo è evidente che il test di questa resistenza allora quando avverrà sarà chiaramente un test importante per il mercato e dovremo valutare in quel caso se è il caso di ritornare a fare spread trading magari vendendo euro e comprando sterline o se viceversa l'euro avrà la forza di breccare al rialzo e ci imporrà una strategia aggressiva in spread sempre long euro dollaro vendita stellina stellina dollaro lo vedremo quando sarà chiaramente il momento detto anche del cable un'occhiata alle commodity currencies in particolare al dollaro australiano anche qui la nostra marcatura alla trapattoni o comunque a uomo stretta strettissima è evidente stiamo aspettando il breakout di area 0.72 perché sopra quell'area potrebbe dovrebbe volare vi ricordo che la matrice di questa idea long è questa bella divergenza rialzista che vi ho appena evidenziato che ha fatto da propulsore di questa dinamica ed è una dinamica che si andrà ad espletare in pieno allora quando supereremo la prima resistenza quindi la divergenza rialzista o ribassista che sia ricordatevi è solo un alert a cui deve seguire un breakout altrimenti vedete anche questa divergenza era long siamo d'accordo però breakout non ce n'è stato e noi non ci mettevamo nulla nell'operazione perché non avremmo comprato in quanto non c'era breakout quindi l'avremmo archiviata come divergenza sbagliata senza rimetterci dei soldi quindi vi consiglio sempre di non correre sulle divergenze ma di andare sempre ad attendere il breakout di una resistenza dinamica da abbinare alle divergenze stesse ok questo è un daily in h4 la situazione è abbastanza simile nel senso che in questo caso ci andiamo a tirare la dinamica resistenziale di medio breve che è questa e ribadiamo lo stesso concetto appena appena detto sopra resistenza abbinando a questa lettura la la divergenza rialzista che abbiamo visto chiarissima in daily possiamo parlare di ritorno di forze in acquisto sul dollaro australiano e come tale tradarlo long allorquando dovesse superare una resistenza dinamica che come in questo caso mi sembra abbastanza affidabile interessante se d'accordo max questa è la resistenza su cui chiaramente andiamo a diciamo eventualmente posizionarci in buy long non prima la divergenza l'abbiamo vista ci fa da campanello d'allarme a questo punto aspettiamo che si vada a completare questa ipotetica figura di inversione e il completamento della stessa prevede il superamento di una resistenza bene allora l'australiano l'abbiamo visto euro gbp anche arriviamo a dollaro card sto comprando dollaro card ecco le posizioni che abbiamo al momento vola il petrolio dollaro card in leggera minus valenza la stellina appena comprata alla pari dollaro card perché la compriamo non perché è scesa tanto sarebbe una banalizzazione assurda e estrema semplicemente perché mi sembra che presenti una bella figura di divergenza rialzista lavoro con un po di anticipo lo dico prima lo dico assolutamente prima in h4 in h1 si vede molto meglio la divergenza ve l'ho fatta vedere prima in h4 io sto lavorando sul breakout che era avvenuto peraltro stamattina in h1 quindi mi ero visto la divergenza in h4 e poi cercavo un time frame più stretto su cui lavorare come vedete il mio stop è sotto i minimi relativi del periodo il mio target minimo in area 132 vediamo un po sta di fatto che in questo momento cosa sta succedendo è vero che il buy ci poteva stare in h4 ma dall'altro lato sicuramente voi non dimenticate che dollaro card e petrolio sono correlati inversamente quindi è ovvio che se io guadagno sul petrolio perderò sul dollaro card 99 per cento dei casi mario ti ho già anticipato questa posizione quindi è sostanzialmente quasi una posizione di spread o di edging valuta contro materia prima nel senso che ho rischiato in termini di size qualcosa di più sul petrolio e mi sta pagando sapendo che ho una piccola assicurazione avendo anche fatto l'operazione long usd card so già che perderò su una delle due il mio auspicio chiaramente di usare usd card long solo come assicurazione le operazioni sono strettamente correlate in questo momento fra di loro chiaro mario chiaro per tutti è uno spread esatto max è assolutamente un'operazione in spread molto particolare in cui in base chiaramente alla mia conoscenza la mia esperienza ho deciso di sovrappesare la dinamica petrolio quindi è evidente che in questo momento io sto sovrappesando guardiamoli un attimo scusate un attimo vi correggo il tic qua su qui è già corretto eccoli qua in questo momento mi aspetto un'accelerazione rialzista del petrolio contro un'accelerazione ribassista dello usd card eccole qua vedete li vedete in giallo verde vedete il petrolio questo grafico a cinque minuti e in nero usd card quindi sono confidente che questa accelerazione sia pura perché vedo che uno scende l'altro sale la posizione usd card assume quasi una posizione di protezione o di di riduzione dell'everage che ho sul petrolio ma io ho scelto il mio lato ho comprato un lotto di petrolio che in termini di controvalori assoluti e di volatilità specifica dello strumento è decisamente sbilanciata a favore di petrolio qui lo vedete molto bene guardate alla grande decelerazione di usd card e seguite una grande accelerazione di petrolio al rialzo non potete come dire pretendere una correlazione perfetta a livello di timing però dal punto di vista pratico anche in h1 si vede bene cosa sta succedendo non ne parliamo in h4 in cui sembrano veramente correlati uno al confronto dell'altro sì lo stop c'è sempre ci mancherebbe bella domanda e infatti c'è anche qui lo vedi sui usd card vediamo a quanto l'ho piazzato sull'usd card ho messo uno stop eccolo qui 1 30 40 e sono contento che lo prenda perché se me lo prende sull'usd card quel petrolio il petrolio se mi prende lo stop sull'usd card il petrolio me lo trovo a 50 dollari quindi se mi becca lo stop vuol dire che il petrolio accelera rialzo guardate come vanno uno al contrario dell'altro quindi ben venga lo stop usd card se questo vuol dire guadagnare un ottimo gain sul petrolio max mi dice chiaro per tutto allora salvatore mi dice in caso di target sul petrolio chiudereste anche il cad assolutamente sì ma se vado a target sul petrolio salvatore molto probabilmente sarò già stato stoppato sullo usd card dovrebbe chiaramente dovrei non avere questo tipo di problematica detto questo andiamo a dare un'occhiata agli indici ecco francoforte perché non mi sorprende in questo momento il rimbalzo dell'euro perché francoforte ha raggiunto la base superiore di questo canale ascendente che mi sembra davvero ben tirato quindi mi sembra tutto sommato fisiologico che abbia sentito questa resistenza in questo momento piccola candela di decelerazione assolutamente ripeto fisiologica nel senso che l'angolo di ascesa dei mercati azionari l'abbiamo detto anche ieri è eccessivo quindi il mercato ha bisogno di rifiatare un po non di crollare di rifiatare di trovare un angolo di ascesa più sostenibile il che può portare a pensare che ci possano essere prese di beneficio sull'azionario ma poi ancora per spingere verso l'alto perché sono convinto di questa idea di spinta verso l'alto perché questo è il grafico giornaliero del dax e voi mi dovete dire dove si ferma questo signore se questa è un'inversione non c'è nulla io continuo a non vedere nulla qui in mezzo vedo solo una cosa oltre al breakout di questa resistenza dinamica che stiamo tradando vedo solo questa resistenza di lungo non vedo nulla allora so già che il mercato non può fare così non ho mai visto una cosa del genere anche se questa discesa è stata bella secca però c'erano le motivazioni per so già che il mercato probabilmente salirà con un angolo più appunto legato a questo canale che abbiamo disegnato e la mia idea è di assecondarlo quindi sulla debolezza comprare sempre e rimanere in trend con un target e potenziale obiettivo col tempo e con calma del petrolio in area 10.800 11.000 ok quindi comprare adesso non ha molto senso onestamente comprare allora quando il dax dovesse andarsi appoggiare sulla base inferiore di questo canale secondo me può essere una mossa intelligente che valuteremo chiaramente più in là giovanni sì lo so che ci sono le aree statiche per l'amor di dio però ripeto nella sua nel suo impatto visivo guardando questo grafico io non vedo nulla in mezzo capace di arrestare la marcia rialzista tutto qua ovviamente se il concetto riscon funziona sull'azionario europa e asia si trasferisce anche agli emergenti probabilmente max però con grande sincerità ti dico che non sono mercati che seguo particolarmente allora andiamo a dare un'occhiata al nikki che in linea con quanto sta succedendo su francoforte sapete che quotiamo gli indici h24 questa è una cosa molto interessante che vi prego di prendere in considerazione è vero che durante la notte gli spread si allargano perché chiaramente vedete adesso lo spread sul nikki è più largo non va usato per farci trading è sbagliato tradare adesso il nikki perché il mercato è chiuso quindi la nostra quotazione è solo un riflesso di quello che sta succedendo sugli altri mercati e vi permettiamo di se volete di invertire o coprire le posizioni non ci si fa trading di breve con i mercati chiusi e lavorabili solo per una questione di ricopertura ci si fa però protezione di posizioni quindi se voi vi rendete conto che avete una posizione long sul nikki all'improvviso l'europa inizia a scendere con altre piattaforme non potete far nulla qui vi permettiamo di andare a vendere sul mercato l'algoritmo misura l'andamento degli altri listini principali non fa null'altro che adeguare le quotazioni dell'indice chiuso a quelle che sono le escursioni medie dei mercati di riferimento il che vuol dire che misura francoforte misura lo standard and poor in base all'andamento percentualizzato degli stessi un calcolo decisamente più complicato ma simile a quello che vi sto dicendo va ad adeguare l'ipotetico valore di battuta dell'indice che state osservando per me è molto interessante perché ci va un po' a come dire ad allontanare dalla problematica dei mercati chiusi gap up e gap down e ci permette su certi mercati piuttosto che andarci adeggiare coprire difendere con strumenti alternativi tipo sono long su milano ma milano è chiusa e quindi mi copro col nasdaq ci permette pagandolo ripetelo ribadisco subito uno spread più largo di andare a fare l'operazione lo stesso non è che uno spread più largo che ci permette ci rimettete tantissimo decisamente non è lo spread abituale perché vedete su francoforte adesso lo spread è uno in questo momento un pip di spread niente di più perché perché francoforte aperta se francoforte forse chiusa lo spread sarebbe 4 5 ma lo ripeto non è intelligente lavorare sul francoforte la notte a mezzanotte però se ci rendiamo conto che in che gira e vogliamo proteggerci il dax long che abbiamo lasciato di pomeriggio possiamo anche farlo non quotano ovviamente sabato e la domenica perché in quel caso il riferimento a mercati aperti su cui basare la proiezione di di pricing sui sui listini non lo potremmo avere la linea rossa e verde che vedi sui grafici vincenzo non sia un novellino e super trend indicatore che sarà massivamente divulgato spiegato e semplificato durante la mia academy roberto dice il mio audio è chiuso da più di un minuto no roberto è un problema solo tuo perché tutti gli altri mi stanno ascoltando da quello che mi par di leggere nella chat grazie a te vincenzo dicevo del nickey in leggera fase correttiva in linea con quanto sta succedendo anche francoforte andiamo a dare un'occhiata agli yankees agli americani eccoli qua anche qui il ragionamento è analogo a quanto appena detto per quanto riguardava potenziali target questo è lo standard in pure 500 ditemi voi io allora quando ha rotto questa resistenza dinamica terzo punto di contatto è scusate zoom un attimo la vediamo meglio perché potrebbe essere sottovalutata primo punto secondo punto di impatto li uniamo proiezione sul terzo qui c'è stato il breakout area 1972 di indice ha rotto al rialzo ditemi voi cosa c'è in mezzo fra qui e qui secondo me niente di significativo se non questo grande statico che con il tempo andrà a coincidere con la resistenza dinamica il che mi porta a pensare che salvo fisiologiche fasi di accumulo e di distribuzione l'obiettivo per lo standard in pure 500 sarà area 2040 2050 riccardo l'academy è tutta registrata quindi se non potete seguirla in live alle 19 di sera potrete tranquillamente seguirla invece in registrata nell'area clienti che sarà un'area riservata dove appunto i clienti potranno registrare vedere l'academy quando vogliono sarà posizionato in un'area specifica del sito tradotto in italiano alex mi dice pietro è tardi ad entrare sul petrolio un attimo allora questo è il grafico h4 sempre dello standard in pure 500 in questo caso si vede ancora meglio il breakout di resistenza dinamica attenzione ringrazio chi me l'ha chiesto di vedere il max non si vede solo il breakout se ci fate caso si vede anche il pulbecchino accelerazione pullback tiene la vecchia area di resistenza che ora fa da supporto e spinge ancora verso l'alto ora io sono convinto che ci saranno fasi fisiologiche di distribuzione non possiamo salire con quest'angolo di ascesa impossibile probabilmente ci andiamo a appoggiare su questo angolo di ascesa il che vuol dire che col tempo lo standard in pure farà anche delle correzioni però dal mio punto di vista in ottica daily gli indici hanno assolutamente rotto al rialzo per quanto riguarda lo standard in pure si potrebbe entrare anche adesso minimo confermo chiaramente con un'ottica di medio lungo termine perché a questo punto è evidente che già partito da 1.870 siamo 110 punti sopra dovrai piazzare per forza di cose uno stop loss non troppo lontano quindi uno stop sull'ultima candela qui sotto area 1.942 per un target quindi hai uno stop di questa dimensione per un target di questa a te la risposta sei al limite della praticabilità secondo me sarebbe meglio aspettare un eventuale ritracciamento in quest'area a quel punto ti piazzi lo stop subito sotto l'area e vai ad avere un rapporto rischio rendimento 1 a 4 io sono sempre dell'avviso che il bravo trader sa rinunciare a certe operazioni non è quello che le fa tutte è quello che sa anche riconoscere di essere in ritardo sì vincenzo il webinar è registrato lo troverete poi sulla mia pagina youtube e comunque su facebook antonio mi dice perché l'accademy alle 19 e non alle 16 e 30 perché purtroppo o come giusto che sia molti lavorano alle 16 e 30 e mi è stato chiesto di avere un orario che possa accontentare un po tutti peraltro i mercati sono chiusi anche io sono libero di mente perché non dimenticate che ci sarà sì l'accademy ma continueranno ad esserci webinar giornalieri quindi io ho bisogno anche di recuperare un po un po di energie e se facessi l'accademy alle 16 e 30 non potrei fare più trading time quindi 16 e 30 17 e 30 il trading time una pausa di un'ora e mezza alle 19 un'ora e mezza di accademia di trading detto ciò riccardo ti stai proteggendo la tua posizione short sull'euro dollaro con gbp usd quindi si è andato in spread perfetto vedo che sta volando una posizione sempre il petrolio vedete il petrolio più 6 70 e il cad giustamente perde quindi il mio netto è di quasi 400 euro di guadagno sta andando bene anche la sterlina che abbiamo fatto adesso in diretta andiamo lì a vedere ricapitoliamo velocemente petrolio in accelerazione giusto ottimo normale usd card coerentemente in arretramento anche questo mi pare logico speriamo di beccare lo stop perché a quel punto il petrolio sta a 50 e sterlina dollaro su cui siamo entrati sul breakout in diretta all'inizio del webinar sta iniziando a macinare nella nostra direzione direi per il momento tutto bene e condivido riccardo la tua idea di come dire di proteggere il tuo short al momento sbagliato su euro dollaro con una long sterlina dollaro mi sembra che tu abbia assolutamente preso intrapreso una decisione logica orizzonte temporale dell'operazione sterlina dollaro non ce n'è vincenzo se guardiamo il recente passato nel giro di una settimana di 5 6 giorni dovrebbero cercare di andare a target è ovvio che non è che aspetterò all'infinito se mi rendo conto poi che durante il cammino magari si crea una logica divergenziale in quest'area io me ne esco fuori io ho un target ipotetico che deve essere per forza di cosa equilibrato rispetto allo stop dopo di che mi limito a seguire l'andamento chiaramente del mercato e ad aggiornare giorno per giorno la mia la mia analisi al momento mi sembra peraltro non so quanti di voi fossero connessi ieri però su questa idea che avevamo di comprare sterlina ieri ne ho parlato a lungo c'è la voglia di entrare c'era a questo punto abbiamo anche un leggero arretramento dell'azionario la sterlina è ancora più libera di rifiatare al rialzo non potevo chiaramente non entrare in posizione abbiamo visto il nikkei abbiamo visto il dax abbiamo visto lo standard in pur 500 che stanno lo ribadisco fisiologicamente correggendo guardate dax in h4 correzione peraltro ridicola perché non riesce veramente a mettere la retromarcia qui non c'è nessuno che pressa il ribasso e quindi operativamente parlando questo è molto importante per quanto riguarda riccardo la tua domanda per il conto a chi ci rivolgiamo a questo signore qua il mio il grande pedro che domani risentirete in academy questi sono i suoi riferimenti ve li metto anche in chat parla un ottimo italiano pur essendo spagnolo chiaramente un perfetto inglese altrimenti non potrebbe vivere a malta da sette anni è a vostra disposizione chiunque mi sembra finora lo abbia contattato credo abbia avuto un servizio di ottima qualità vi ho postato i suoi riferimenti anche all'interno della chat detto ciò i tempi tecnici per l'academy ripeto se mandate copia del documento d'identità e bolletta non più tardiva di tre mesi addietro nel giro di 24 ore il conto è autorizzato e vi arriva le mail per procedere con i versamenti nessun problema particolare abbiamo visto lo standard pur 500 veloci guardiamo anche milano la vedremo più approfonditamente nella parte dedicata all'azionario ditemi voi solita domanda lo so che dite ho hai rotto le scatole questa domanda dove si ferma milano io continuo a non vedere nulla e penso che il target reale di milano sia questa resistenza quindi ancora una volta divergenza rialzista ancora una volta consapevole che quest'angolo di ascesa non è sostenibile e che quindi probabilmente ci proiettiamo in questo modo ma io qui in mezzo non vedo nulla in grado realmente di fermare milano io onestamente non ci vedo assolutamente nulla questa è la mia idea ma la vedremo più approfonditamente dopo mentre vi dico che la mia esposizione sul milano attualmente è al long 70 per cento ero long 40 per cento fino a ieri oggi ho aggiunto altri tre titoli per i miei abbonati long azionario italia quindi da questo dovrebbe emergere chiaramente qual è il mio pensiero sperando di non sbagliarmi anche la spagna ha rotto a rialzo che avevo detto che era un indice in ritardo di linea era da comprare a mani basse quando ha breccato 9.750 e se ne va via il nasdaq meno captive mi piace meno degli altri indici onestamente d'altra parte c'è stato un po di sconquasso su qualche titolo dell'indice negli ultimi giorni seguiamo con attenzione per quanto riguarda il nasdaq cento questa resistenza dinamica molto precisa quindi il nasdaq potrebbe riprendere a volare fare da volano per tutti qualora chiudesse sopra le a 4.380 4.400 sopra quel livello diventa davvero straordinaria la potenza ottima anche parigi che si appresta a raggiungere il massimo relativo di 4.7 dove potrebbe prendersi una pausa anche l'euro stock si risveglia dal 38.2 di fibonacci e dal punto di vista pratico dimostra è palesa una voglia di continuare a crescere così come gli altri indici anche sull'euro stock 50 la domanda è sempre quella questa è la mia proiezione fino a prova contraria non è che sia un kamikaze però dal punto di vista pratico io non vedo grandissime zone di resistenza su maggiori indici azionari d'altra parte perché dico questo perché come vedete dallo standard dal dax non ci sono grandi zone di resistenza perché ragazzi si è venuti giù pesante cioè noi abbiamo abbandonato le aree dei massimi nel giro di due sedute di due settimane non possiamo pensare che il mercato possa farsi come dire ostacolare da questa zona poi di lateralizzazione che ne è seguita è una zona dove probabilmente ci sarà qualche pausa qualche presa di beneficio ma il vero target del mercato è annullare questo movimento massivo al ribasso e per farlo deve ritornare in questa zona questa è la mia idea che spero appunto sia un'idea corretta sì nicoletta adesso andiamo a vedere il grafico del fuzzimib perché passiamo all'azionario se non avete altre domande avevo visto dei grafici che mi avete chiesto ieri c'era qualcosa di interessante sterlina yen non so chi me l'aveva chiesta avevo detto non mi convince al ribasso per me è un long e mi sembra che fosse corretta come valutazione audi yen qualcuno di voi l'aveva proposta confermo ha breccato a rialzo quindi sulla forza ecco vedete avevamo messo questa zonetta rosa verde come come target potenziale e ce n'era un'altra forse franco svizzero yen bella non ricordo chi l'avesse proposta però una reattività impressionante su questo test questo pullback classico pullback di resistenza dinamica di breve vedete rottura accelerazione pullback e riparte e addio alla compagnia davvero molto preciso bene a questo punto direi di passare alla piattaforma carne di maiale non mi insistete con questa roba non mi insistete perché forse non ce l'ho neanche fa i simboli sicuramente non ce l'ho mi dispiace non posso accontentarvi d'altra parte se io vi do via libera sulla carne di maiale succo d'arancia voi non mi mollate più per vi attaccate alla giugolare su queste cose quindi preferisco non darvi retta lo dico scherzosamente ma dal punto di vista pratico c'è un solo maiale in questo momento vicino al monitor e quel maiale sono io certamente non è quello che vi potrei rappresentare graficamente parlando allora detto questo direi perdonatemi per chi mi ha chiesto questo grafico particolare andiamo a vedere l'andamento del fuzzimib nicoletta questa è la situazione tecnica un fuzzimib che ha superato la soglia solo ed esclusivamente a mio parere psicologica dei 22 mila punti è un fuzzimib che in questo momento ha un ha un peso specifico importante nel comparto energia che guadagna l'1 e 28 d'altra parte abbiamo visto ieri il sentore di quello che stava succedendo sul petrolio con le grandi accelerazioni di saipem di eni e di tenaris e quindi grandi accelerazioni rialziste che guarda caso si sono presentate il giorno prima del grande allungo del petrolio detto ciò milano mantiene un'impostazione rialzista grazie alla sua divergenza long di brevissimo che ha funzionato bene ha abbandonato la prima resistenza 21 mila e 500 punti parliamo di indice nicoletta mi dice che non mi sentite più mi sentite adesso vediamo di liberare un po di banda internet perché adesso ok quindi dicevo palese come dire la rottura da parte di milano della della resistenza dinamica in area 21 e 5 una rottura che ha fatto un po da trampolino di rancio a questo rimbalzo come trampolino c'era anche una bella divergenza rialzista quindi tutto torna direi divergenza long piccolina ma precisa sul supporto breakout di resistenza dinamica non vedo il motivo per stare short su milano in questa configurazione tecnica ho già individuato delle aree potenziali di target nicoletta la prima è sicuramente l'area dei 22 mila e 400 punti su cui abbiamo lavorato lungamente nell'ultimo tempo ma il target reale non vi mettete a ridere è area 23 mila e 2 23 mila e 300 punti ossia questa resistenza di lungo termine ci arriverà non ci arriverà non lo so non può arrivarci con quest'angolo di ascesa quindi magari proviamo a tirare anche domani verso area 22 5 in area 22 5 mi aspetto una zona di resistenza secondo me torna dietro almeno di un terzo prende forza e poi a 23 mila 23 2 ci andiamo l'idea è quella allora quando dovesse fare quello che ho detto di montare subito un ritracciamento di fibonacci stimiamo che ci sia appena arrivata facciamo un lavoro sull'ipotesi ecco stimiamo che sia arrivato qui potrebbe correggere verso area 21 8 e poi da lì riprendere a spingere verso l'alto con target 23 2 però mi sembra assolutamente sbagliato avere in questo momento un posizionamento short sul mercato andiamo a guardare i due settoriali di riferimento il fuzzi bancario meno tonico oggi ma come abbiamo detto ieri ha una figura triangolare perfetta e ce lo aspettiamo ancora a rialzo in area 17 2 il fuzzi energia più 1 e 35 quasi sotto resistenza quindi attenzione perché l'innesco rialzista del petrolio e la contestualità di questa resistenza in arrivo sul fuzzi energia vuol dire che se il petrolio davvero strappa questa resistenza la spaziamo via e eni vola vuol dire che eni a quel punto vola quindi state attenti a mettervi contro le resistenze sugli energetici perché c'è il rischio che vengano spazzate via nelle prossime ore questa almeno è la mia sensazione andando a guardare i singoli titoli primo è a 2a mi è stato chiesto anche di di volkswagen se non ricordo male la vediamo ma ricordatemelo alla fine per favore il primo titolo che osserviamo è a 2a abbiamo detto lungamente di questo falso breakout che vedete evidenziato in giallo ne è seguita come spesso succede nei casi di falsi breakout una contro reazione violentissima rialzo spazzata via la resistenza 1.16 il mercato ha attirato alla grande in posizione long quindi grande a 2a è soprattutto gran bel grafico in cui abbiamo visto verificarsi anche quella che è una logica poco nota la logica del falso breakout di un supporto di una resistenza come spesso vi ho detto quando c'è un falso breakout la reazione che si è una reazione tre o quattro volte superiore alla dinamica falsa sviluppato in questo caso verso il basso detto di a2a un'occhiata ad atlantia 0 a 0 oggi niente di particolare una fase un po possiamo dire interlocutoria d'altra parte siamo vicini a un doppio massimo storico in area 25.60 non è un titolo in questo momento su cui un particolare appeal qui mi sono già morso le dita e qualcos'altro perché c'è stato il breakout di questa bellissima divergenza long su azimuth risparmio gestito che torna a volare guarda caso con le borse che recuperano non è casuale ovviamente mantengo l'idea di una proiezione verso area 22 ma questo breakout non lo posso più tradare mimo perché se vado ad entrare adesso dico mimo perché mi ricordo questo ragionamento poc'anzi devo sapparmi sotto 19 ed ho un target a 22 come vedi il box target stop è identico quindi l'operazione per me non è praticabile un po di lettera sulle popolari banco popolare in particolare l'unico titolo che ho in portafoglio su cui sto soffrendo un po ve lo dicevo anche ieri non sprintano nonostante ci sia una bella divergenza rialzista che vada che giustificherebbe un posizionamento long di negativo c'è questo breakout al filo non siamo stati stoppati ma non respira il titolo non respira e questo è abbastanza evidente quindi spero di tirarmi fuori quanto prima possibile posto che se dovesse reagire l'area 14.50 sarebbe un target abbastanza facile da raggiungere sono sempre long su montepaschi di siena il mio target è 1.80 o meglio il target dei segnalazioni che ho dato ai miei clienti 1.80 il target corrispondente in buona sostanza al raggiungimento di questa prima resistenza dinamica niente di particolare siamo al più 11 per cento in questo momento sulla posizione l'abbiamo comprata bene e lo tengo ancora in portafoglio perché ritengo che la zona attuale sia una zona senza nessun senso per fermarsi già sono indeciso figuratevi se chiuderle a 1.80 figuriamoci se gliele regalo almeno perché perché ritengo che molto dei passi più a volte ho avuto modo di sbilanciarmi e di esprivervi sia allo stato attuale una delle banche potenzialmente più sana sul mercato italiano quantomeno se non europeo essendo stata lungamente controllata e non sarei sorpreso se ritornasse in tempi non lunghissimi verso quota 2.50 il problema di questi titoli è che li molli poi in un giorno perdi il treno e non riesci più ad entrare quindi sono abbastanza attento perché credo di avervi fatto comprare bene il target reali che vedo in rapida successione sono appunto l'area dell'1.80 1.82 2.08 2 diciamo il secondo 2.30 il terzo 2.50 il target probabilmente esaustivo però è un work in progress lo vedremo pian pianino Giancarlo giustamente ci dice no no Riccardo l'azionario non è in CFD non vedo per quale motivo lo sapete tier one non fa trading azionario del motivo per cui ve ne posso parlare anche con una certa libertà però io onestamente ho visto anche i CFD sull'azionario non ha senso non ha senso fare i CFD sull'azionario quando abbiamo il mercato ufficiale con prezzi peraltro competitivi da primarie banche italiane come directa fineco iv bank e quant'altro abbiamo delle ottime piattaforme perché e per quale motivo fare l'azionario sui CFD io onestamente non lo capisco ci sarebbe la riscute perché fare l'azionario Italia visto che paghiamo la Tobin però questo è un altro ragionamento ma se dovessi fare azionario lo faccio io lo faccio personalmente con banche italiane e trado i titoli ufficiali e non dei derivati degli stessi perché secondo me non ha senso detto questo quindi rimaniamo in attesa su monte dei paschi di siena fiduciosi andiamo a vedere banca popolare Emilia Romagna che si è avvicinata alla resistenza 7.75 indicata ieri è complice questa sentenza tar Giancarlo ci dici qualcosa di più Giancarlo dice che domani è atteso una sentenza del tar sulle popolari presumo sui riassetti delle popolari e quindi è il motivo per cui probabilmente vediamo questa fase di interlocutori a barra incerta sul settore ha una chiara spiegazione quindi dal punto di vista pratico occhio perché se la sentenza va ad essere favorevole queste sono pronte davvero a volare un'occhiata anche a popolare di Milano meno 1.83 oggi rimane sotto schiaffo e sotto impatto sotto pullback ribassista fino a provo contraria della sua resistenza mollata qualche giorno fa anche qui la sentenza probabilmente sul riassetto delle popolari sulla governance avrà il suo peso specifico quindi ne parleremo domani inutile sbilanciarsi adesso eccoci su buzzi unice sempre bellissima ma in zona neutrale per chi ce l'ha in posizione complimenti a me piace molto da inizio dell'anno non ce ne ho più purtroppo e c'è una resistenza breve in area 15.90 che andrà valutata mi dispiace domenico sei arrivato un po tardino ma il webinar è registrato quindi eventualmente fra un po lo trovi su facebook detto di buzzi eccoci a campari più 1.86 finalmente tenta con decisione di abbandonare il vecchio breakout ribassista molto bella l'accelerazione del titolo per i prossimi giorni mesi non so cosa dovremo tenere presente questo nuovo supporto dinamico per il momento ancora sotto valutazione l'ipotesi di un pullback ribassista anche se sono sempre meno convinto cnh industrial mi piace è long divergenza rialzista breakout di resistenza dinamica per me può andare verso area 7.10 7.15 ma sono di parte perché l'ho fatta comprare i miei clienti ve lo dico subito il mio è un giudizio paresemente condizionato in conflitto di interessi ed è giusto che ve lo dica sapete che ho beccato uno stop tempo fa su cnh ve ne ho parlato durante il webinar se non ricordo con viaggio avevo detto che sarei rientrato a questo punto stante la divergenza parese sarei rientrato quando chiaramente avrei visto breccare anche una resistenza senza più anticipare il mercato la divergenza c'era c'è non c'era il breakout di resistenza anche via let's go proviamo ad entrare in posizione target 7 euro per azione stop in caso di rientro sotto area 5.90 5.85 questa è la mia idea su cnh e in generale direi come vedrete a breve su tutta la galassia fiat che credo possa rimbalzare bene nei prossimi giorni ultimo lampeggio più 0 85 per milano come closing dell'indice buono una giornata ancora ritenuta nonostante i buoni rialzi eccoci su enel più 1.10 strappa e va probabilmente in area 4.25 prossima zona di resistenza molto bene da rettificare tutti i livelli di tali di supporto oramai sono vecchi per il momento ci affidiamo semplicemente agli ultimi due massimi minimi crescenti come chiaramente riferimento operativo per le prossime sessioni quello che è palese è stato e non è stato il breakout di questa zona di resistenza di medio breve quindi da qui in poi si ritorna long con potenziale target obiettivo la prossima resistenza dinamica finale a 4.25 4.30 eccoci ad enel green power su cui roberto mi dice sono entrato oggi a 1.72 convengo sono long anch'io su enel green power target 1.90 divergenza rialzista breakout solita figura mi sembra che possa accumulare bene non aspettando non aspettarti roberto però accelerazioni micidiali perché il titolo notoriamente non è fra i più tradati del mondo no quindi tecnicamente si fa spesso trascinare dall'andamento complessivo e decisamente in questo momento mi sembra che la giornata di oggi abbia palesato un maggiore interesse sulla controllante enel sulla capogruppo piuttosto che su green power quando capita così vuol dire che forse è il momento di avere un po di pazienza perché in questo momento gli asset si stanno muovendo sul basket come vi accennavo ieri stanno ricoprendo i basket i gestori devono comprare per forza se non si ferma il mercato devono comprare per forza certamente i basket sono fatti da eni enel generali intesa unicredit fiat fin meccanica eccetera eccetera certamente non da enel green power in questo momento specifico eccoci arrivati finalmente ad eni che vi ricordate il grafico dell'indice settoriale di apertura che era vicino lo vediamo eccolo qua fu si energia vicinissimo alla sua resistenza guardate e siccome se si parla di energia in italia si parla di eni il grafico di eni è sostanzialmente identico anche qui una configurazione triangolare un grande supporto statico in basso l'area dei 13 euro per azione una sequenza di massimi decrescenti pulita facile secca è un target obiettivo nelle prossime ore 15.50 se il petrolio accelera questo 15 e 50 viene spazzato via quindi occhio ad eni eccoci ad exor meno 0.10 mi è piaciuto anche qui il concetto di divergenza rialzista quindi sono moderatamente positivo sul titolo divergenza long breakout di resistenza e rimane inserita in una evidente violazione di supporto dinamico però se anche volesse realizzare un pullback all'ira di dio davanti a sé per rimbalzare quindi l'ho comprata fiat chrysler più 0 87 situazione abbastanza simile ma con una divergenza meno evidente minimo intanto mi dice vai stai per prendere lo stop su usd cad che vuol dire che sta viaggiando il petrolio grande minimo infatti vedete guardate rampeggia di rosso lo stop su usd cad ma il petrolio mi sta portando 929 euro di guadagno in questo momento quindi il concetto di correlazione inversa grazie mimo per avermelo detto sta funzionando alla grande vediamolo eccolo qua guardate petrolio spinge 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 a 48 quasi a 49 dollari al barile giustamente gli usd cad decelera tutto molto bene tutto molto coerente e l'abbiamo beccata abbiamo beccata l'abbiamo presa direi anche la segnalazione che vi ho fatto oggi sul cable è buona anche la stellina mi sembra si accelerando 220 euro da quando l'abbiamo comprata in webinar non mi sembrano malvagie però ripeto è interessante notare questa conferma a livello didattico secondo me è una grande valenza di questo andamento contrapposto su usd cad chiaramente contro petrolio mi chiede se si può entrare adesso sugli usd cad la divergenza è sempre valida ma a questo punto me ne frego perché io i miei soldini li sto facendo sul petrolio se devo beccarlo stop qui lo prendo abbastanza tranquillamente ritornando a razionario italia eravamo a fiat un'occhiata a fin meccanica che letteralmente vola però occhio per chi ce li ha perché fra un po impatta aria 12.20 e forse lì un 50 per cento di take profit non è una cattiva idea in attesa di capire se se saliranno ancora fabrizio si è entrato a 21 7 72 trailing di 25 basis point su che cosa fabrizio per quanto riguarda fiat michele appena vista l'abbiamo appena vista ritengo sia orientata le da sul petrolio ok fatto bene ad entrare anche se si è un po tardivo come ingresso per quanto riguarda fiat lo dicevo ha rotto area 12.50 per me un segnale long con target 14.30 il problema di fiat è che ha un angolo di ascesa molto elevato quindi un po pericolosetta si può piazzare uno stop loss sotto questo doppio minimo quindi in area 12 12.20 e tentare di avere un rapporto rischio rendimento molto favorevole chiaramente verso l'alto verso area 14 detto questo ritorniamo a generali adesso punta ad area 17.50 anche a generali fa parte del cosiddetto concetto di basket quindi i gestori devono ricoprirsi su questi titoli e riempire i portafogli la mia preferita la mia signorina intesa san paolo l'ho comprata qualche giorno fa ne sono contento e credo che come mi dicevano a scuola è bravo ma potrebbe fare di più credo non abbia ancora espresso il massimo delle sue potenzialità può fare molto di più intesa san paolo e area 3.50 non mi sembra qualcosa di talmente difficile da raggiungere per quanto riguarda informazioni sul servizio azionale italia scrivetemi personalmente come vi ho appena detto su pietro punto pacello che ho c'è la gmail punto com lasciate un contatto io poi vi chiamo vi metto la mia email personale pietro punto pacello scrivetemi qui lasciandomi un recapito poi sarò io a chiamarvi come vi diceva grazie roberto roberto intesa mi aspetto molto di più di quello che ha già fatto ma sono confidente che possa fare luxottica stamattina una mezza idea di comprarla mi era venuta mi piace molto la tenuta sostanziale di questo bel supporto dinamico ha un rapporto rischio rendimento ancora ottimale perché sembra proiettata per salire ancora eccoci su mediaset vedete ha breccato a rialzo questa è una segnalazione che in tempi non sospetti e con grande tempestività io non l'avevo vista e non ho difficoltà da ammetterlo vi ha dato viaggio vi ricordate mercoledì scorso per quel discorso mediaset da qui in basso quindi spero ne abbiate approfittato perché è un buon segnale long e in questo momento però attenzione perché sta raggiungendo resistenza in area 4.73 74 lì secondo me è un po rallenta andiamo su mediobanca breakout rialzista anche di mediobanca sopra i 9 euro anche soglia storicamente psicologica valida si proietta verso i 10 inutile entrare adesso ritardo di linea eccessivo mediolano un più 0.70 72 va a 7.25 poi vedremo cosa fa molto bella la dinamica di canale guardate non so se ci avevate fatto caso io l'ho appena vista eccola qua mi sembra che sia preponderante in questo grafico questo splendido canale laterale ribassista all'interno del quale mediobanca e mediolanum si è mossa con grande precisione molto bello molto interessante e c'è anche da dire che dal punto di vista squisitamente grafico questa è una leggerissima divergenza rialzista che il suo lavoro lo ha fatto quindi è una preda che si poteva catturare per il momento long con target 7.25 moncler meno 0.32 vicinissima al supporto direi strategico di breve potrebbe dovrebbe reagire altrimenti è cotta rapporto rischio rendimento a mio parere interessante non dimenticando che salvo che non ci siano brutte notizie questa figura di congestione triangolare è una figura solitamente propedeutica grandi accelerazioni si può entrare sulla base del triangolo come io ho fatto confesso quindi qui o si può entrare solo sul breakout avvenuto del triangolo come abbiamo fatto oggi pomeriggio sul petrolio ok dopo ci andiamo tiziano eccoci a prismian più 0 78 occhio perché se brecca rialzo avendo fatto falso breakout è un titolo da comprare domani perché ha molto spazio a salire e lo stop si può piazzare in termini non troppo aggressivi quindi si può piazzare uno stop sotto area 18 che a fronte del target perché una zona vedete di grande di grande test che a fronte del target a 22 non sarebbe malvagio lo vediamo domani saipem digerisce un po gli eccessi di ieri tutto ci sta meno 3 per cento oggi ma rimane proiettata verso area 8 e 70 nulla di preoccupante visto quanto ha combinato ieri ferragamo 25 euro per azione a me non piace continuo a dirlo e rimane proiettata verso un pullback in area 28 ma non mi trasferisce particolari sensazioni positive snam rete gas chiaramente abbandonata in questo momento in cui più che l'utilities si guarda banca ed energia come titoli notoriamente più reattivi però è sopra resistenza stm più 1 60 occhio la resistenza che vi ho detto ieri è sotto test l'area 6.35 6.40 se riesce a violarla potrebbe accelerare verso area 7.20 ed è un un bel un bel margine di trading telecom italia sta recuperando questa è la ultima pugnalata che ho presa dal mercato l'ultimo stop che mi ha dato peccato perché a quanto pare non l'avevo letta male occhio perché se superare 11 11 questa vola via verso 1 e 20 non so chi mi l'avesse chiesto di guardare gli telecom però rimango positivo sul titolo e la prossima resistenza secondo me se viene spazzata con buoni volumi diventa un segnale bullici potente sul titolo perché ci sono le cosiddette mani forti sopra che lo stanno coprendo a roberto era per te eccoci a tenarisi più 3 30 per cento va verso 12 50 precisa bella pulita vediamo cosa farà quando tocca a 12.70 perché quella è la resistenza dinamica su cui tecnicamente si dovrebbe aprire short se poi la viola bisogna girare posizione di lungo non dimenticate che tenaris è stato uno dei titoli più belli fino a qualche mese fa dopo grazie anche alla dinamica petrolio da cui ha un minor dipendenza rispetto a deni e snam e saip ma comunque non può fregarsene ha subito una profonda fase di ritracciamento ma è stato uno dei titoli più belli di piazza affari nel 2012 almeno a mio modesto parere quindi voglio vedere cosa fa in area 12.70 e poi decidere perché secondo me se brecca al rialzo è da comprare anche se ha fatto già tanta strada eccoci a terra segue il profilo detto poc'anzi su saip e su snam anche lei sopra resistenza dinamica di medio lungo eccoci a ub banca è una popolare quindi anche essa fra virgolette si muove con le popolari risente un po di questo clima di incertezza sul settore in queste giornate da notare che lavora in divergenza long quindi tecnicamente sarebbe una preda e non un qualcosa di cui aver paura vediamo se ce la fa superare area 6.90 finalmente eccoci ad unicredit timida quanto intesa san paolo ma proiettata come abbiamo detto verso area 6.25 tenere la posizione unipol più 1.61 inizia a farsi interessante rimbalzo ma l'ostacolo in area 4.60 molto più bella la configurazione di unipol sai la stavo guardando da tempo poi mi sono distratto l'ho persa mi piaceva questa congestione in basso con supporto statico a 1.88 e mi è scappata via a breve touch della resistenza domani mattina 2.16 infine yux più 2 10 per cento brecca la resistenza dinamica di breve e si prepara a volare vediamo un attimo volkswagen che che ne pensi la gente si scrive con la lettera v e non con la lettera w vediamo se ce l'ho purtroppo qui pensate voi c'ho le obbligazioni di volkswagen non ho il titolo pensa te c'ho tutte le missioni obbligazionari mi dispiace non posso accontentarvi vediamo se un po di pazienza nada non ce l'ho non ce l'ho è lo so mi chiedete vostra aga in porsche lo so che lì batte come dire il dente no d'altra parte anche corretto considerato il periodo particolare facciamo una cosa mi organizzo per farmi attivare domani anche questi due indici e questi due titoli e il mercato chiamerò pratelli altre del link sicuramente ci daranno ci daranno l'accesso e lo vediamo intanto chiudo facendovi vedere un titolo simpaticissimo che ho visto oggi mai seguito in vita mia non so neanche la sigla cosa significi significhi rw e come vedete ha breccato a rialzo una divergenza rialzista è un titolo molto sottile non so davvero che aziende siano l'avevo mai visto in vita mia è quotata chiaramente su milano e ha un target in area 15 si poteva entrare bene in area 10 un utility mi dice roberto che lo segue e dal punto di vista pratico tedesca un utility e sembra proiettata di nuovo verso area 15 con una divergenza rialzista e breakout di resistenza davvero molto interessante mi dispiace non essere riuscito a farvi vedere volkswagen però come vedete strano che non ce l'abbia sono molto perplesso al rialzo al riguardo mi sembra davvero vediamo tutti scusate niente non ce l'ho sono le obbligazioni ma non c'è il titolo domani vi prometto che ve lo faccio trovare detto questo si sarò a milano al toll expo il probabilmente faccio 1 2 interventi 22 e 23 sto aspettando le date mi chiedevate di ritornare velocemente sulla sulla piattaforma forex indice in commodities lo facciamo dollaro yen in arretramento euro dollaro verso area 1 12 85 che chiaramente vanno va chiaramente in coerenza con quello che sta succedendo sul dollaro yen il dax sente quella resistenza dinamica rappresentata dalla base superiore di questo canale rialzista che stiamo tradando imminente un test in area 9008 dove valuteremo che cosa succede se la correzione si ferma qui o meno il nichel da noi allineato segue a ruota eccoci al petrolio in area 48 80 pensate voi che oggi si è sparato due dollari di aumento e io ho fatto il pieno ieri per fortuna e sembra aver breccato questo triangolo con decisione lo stiamo guardando in tanti questo triangolo quindi dovrebbe potrebbe funzionare speriamo incrociamo le dita x audi usd un attimino solo diamo un'occhiata a loro lo abbiamo trascurato colpevolmente oggi se lo trovo usato un attimo eccolo un'occhiata a loro ne ho parlato anche con davide pantaleo sotto resistenza occhio questa è una sell zone per loro soprattutto se l'azionario recupera bene quindi non possiamo non vendere oro in questa posizione vi ricordo che a differenza degli indici su cui il nostro ticker size è un ticker size allineato a 1 per quanto riguarda i metalli preziosi vale la stessa come dire pesantezza dei simboli che avete con altri broker quindi loro particolarmente da maneggiare con cura vedete vado con 0.3 metto uno stop a 1155 e mi metto invece un target verso la zona bassa a 1120 da adeguare però qui bisogna andare short perché questa è la resistenza strategica per il gold e se non si shorta qua veramente non si shorta mai rapporto rischio rendimento secondo me molto interessante viaggio mi dice hai previsto un trading stop sul petrolio si viaggio il problema sono d'accordo con te che sarebbe un peccato vederlo tornare indietro però ragazzi parliamoci chiaramente quando ci ricapita una figura del genere sono sempre assoluto ragionamento secondo me va rischiata l'operazione va rischiata perché è un'operazione che stanno vedendo in tanti quindi non mi sembra ancora il momento in cui posso strutturare un trading stop decente perché il primo supporto dinamico che posso tracciare è questo ma se metto uno stop lì sotto mi fermo prima di fare il pullback sul supporto che non è da escludere ovviamente però potrebbe succedere per oggi direi che è tutto allora giovanni mi dice quando quando un indice esempio il mib arriva alla prima resistenza ebbene vende il 50 assolutamente sì io almeno faccio sempre così porto la metà a casa come faccio adesso sul petrolio vedete se voglio salpio tranquillo più che il trading io me ne porto 0.5 a casa avendone comprato uno me ne chiudo metà se voglio piuttosto che il trading e che non lo vedo ancora come il momento giusto per farlo perché questa zona del petrolio è una zona tecnicamente inesistente perché il petrolio al di là del dell'evoluzione della figura triangolare ha una reale resistenza pensate voi ma non la raggiungerò mai lo dico prima a 56 dollari al barile non dimenticate che parliamo di un qualcosa che è venuta giù a pioggia da 120 dicembre non trascurate questo piccolo modesto aspetto se tracciamo una resistenza dinamica da questo picco a 106 e la uniamo con questa zona di congestione abbiamo un obiettivo secondo me abbastanza affidabile del petrolio nelle prossime ore può essere una trend line che molti stanno monitorando e che io invece avevo trascurato andiamo a vedere che proiezione ci dà già già prendere i punti di impatto diventa difficile eccola qua la proiezione del petrolio su cui forse abbiamo rallentamento neanche a farlo apposta e l'area a questo punto non solo psicologica ma anche tecnica dei 50 49 punto 90 dollari al barile in questa zona probabilmente si potrebbe pensare a qualche presa di beneficio vediamo se questa accelerazione ce la fa oggi nel qual caso io chiuderò la posizione bene signori per oggi anche tutto vi ricordo domani ci terrei tantissimo perché è una persona che può sorprendervi da quello che ho vissuto durante il tour fatto con lui o vi prende o vi piace o lo odiate perché è una tecnica che o piace prende oppure si dice questa è una tecnica un po un po troppo esasperata non vi perdete questo appuntamento vi asputto domani insieme ad antonio carnevale sempre alle 16 e 30 qualora per qualunque motivo il mio aereo per malta atterrasse con un leggero ritardo non demorrete appena mi riesco a sedere in ufficio faccio partire il web grazie ancora buona serata e buon trading a tutti